Martedì 9 luglio, buonasera Sherwood Festival, siamo in diretta qui dal Park Nord dello Stadio Euganeo per una serata in cui cerchiamo di contenere e rappresentare tutte le arti, c'è cinema, c'è teatro, c'è musica, c'è letteratura, c'è fumetto, c'è qualsiasi cosa ma in questo momento devo immanente lasciare la palla a Momo, DJ, voi oramai spettatori della web tv lo conoscete Momo è quell'uomo che ha sempre delle magliette con scritto delle cose che in qualche modo rappresentano anche la sua figura buonasera Momo! Ti ringrazio, purtroppo questa non è una di quelle sere però grazie Carlo, grazie per aver passato la linea al mio fianco ho l'onore di avere con me Roberto Dell'Era, buonasera Roberto Buonasera Roberto Roberto in rappresentanza anche dei The Judas che questa sera lo accompagneranno sul palco del second stage Sì c'è un po' rappresentanza degli After, i Death Leopard, Gentle Giant, sono venuti rappresentanti di varie band Perché loro non sono venuti qua Hunter Graf Generator No no ma infatti fra l'altro hanno cercato anche il batterista di Death Leopard però non è stata una mossa sana Allora carissimo Roberto, colonna sonora originale è una frase che sta scritta come acronimo generalmente sulle colonne sonore americane dei dischi sui vecchi vinili italiani di colonna sonora originale che hanno spazio per qualcos'altro oltre che per i loghi giganteschi che usano adesso e probabilmente anche qualche sponsor ormai e invece la tua colonna originale, solo ora, cosa porta? Ma è un titolo mio così che mi è venuto... Ho pensato di fare un disco che era un po' una storia mia e un po' cinematico secondo me poi ognuno ha la sua percezione avevo pensato che siccome non era stato scritto in un periodo breve perché non ha un flusso narrativo ben preciso non aveva bisogno di un titolo che esprimesse necessariamente una direzione narrativa del disco perché non c'era alla fine Per cui una mattina mi sono svegliato adesso e ho detto ma a me cosa piace? Cosa è che posso dire che mi piace? Mi piacciono le colonne sonore musical, quel tipo di roba lì ho detto forse calza giusto per me insomma Ma alla fine tu sei un caso un po' di viaggio inverso rispetto al mood di questo periodo si parla di cervelli in fuga, si parla di persone in fuga tu sei tornato in Italia quando le persone cominciavano a scappare è un essere anticonformista, voluto o non voluto oppure è semplicemente un caso o una grande fortuna per quello che poi ti ha portato il ritorno in Italia nonostante un'ottima e dignitosa carriera all'estero voglio dire O hai sbagliato direzione, cioè a un certo punto hai perso la strada Ho sbagliato direzione, esatto, stavo andando nelle Filippine ma l'aereo è stato dirottato mi hanno mollato a Milano e ho detto vabbè se mi doveva fermare qua No vabbè no, non è assolutamente casuale come tutte le cose che capitano in generale un po' a tutti non pensavo sarei tornato in Italia, poi sono sceso per fare un disco con Diego Mancino ancora nella metà degli anni 2000 a Catania poi tramite lui, questo management mi ha chiesto di fargli sentire delle cose è nata l'idea di fare un disco in italiano che si è realizzata un sacco di tempo dopo e poi nel frattempo ho litigato con la mia fidanzata un po' di cose stavano andando a rotoli per cui è stato naturale fare il salto e tornare in Italia ci sono rimasto poi sicuramente perché ho incontrato Manuel a una cena mi ha invitato a fare un provino con gli after, poi sono entrato negli after quello ha fatto chiaramente cambiare un po' le decisioni sul futuro ho detto vabbè mi imbarco in questa cosa e vediamo cosa succede Un salto di migliaia di chilometri che ha corrisposto anche a un salto che è sempre evidente nella tua musica una differenza tra un'anima che è molto affezionata, molto ferma a un sound degli anni 70 e a un'anima che sperimenta prendendo i suoni odierni e portandoli sul palco il tuo stesso palco di questa sera vede strumenti antichi la chitarra in disuso, il basso non si usa più la batteria, quando non si vede è una batteria e degli Hammond Nord ed Hammond insieme possono stare bene come Ebony e Diver no ma io sento un disco questa non rispondo direttore posso rifiutarmi però devi dire la frase, questa è una domanda veramente del cazzo non rispondo mi fa piacere che tu abbia citato Ebony and Diver, che era uno dei miei dischi preferiti non l'ha detto però, no ma non è un disco, non suono per niente anni 70 no no, io parlavo del tuo essere musicista che comunque pesca no ma io se ho un retaggio musicico vabbè ma mettilo dai, ma dillo più 60, più 60 totalmente, non 70 no no, totalmente 60 qual è la differenza che Momo non ha colto fra i 60 e i 70 secondo te? beh, un'altra, come si possono spiegare come dire, che differenza c'è tra un paio di jeans e una canotta estiva da donna ti piaceva cagare questa domanda no, è completamente diverso due epoche a parte che le cose si muovevano molto velocemente tutte le due epoche contengono grandi rivoluzioni la musica credo si sta evolvendo molto più lentamente adesso poi anche la frammentazione di tutto quello che è l'apparato gestionale della musica cioè le etichette, la distribuzione le radio ma in tutto il mondo noi siamo poi in una bolla un po' sospesa fuori dal tempo però 58 Buddy Holly faceva il primo disco in stereo 58 Buddy Holly, 68 fine 68 esce il primo disco dei King Crimson e direi che di cose ne sono successe in mezzo però direi che dal 2003 al 2013 non c'è stato questo grande cambiamento però sono solo cambiati dei tempi delle cose poi questo non lo so esattamente come mai il rock roll forse non si sta evolvendo così velocemente come una volta questo non lo so non lo so neanche io non so se è tecnologia o attitudini sociali o la musica rappresenta qualcosa di diverso adesso per le masse sicuramente ha meno impatto sociale va bene in Italia ha sempre avuto un impatto sociale molto meno importante che rispetto ad altri paesi anglosassoni dove tuttora le cose stanno succedendo esattamente come da noi però è sempre stata molto nel tessuto sociale il rock roll, il genere rock roll come la musica pop in Italia chi ascolta un certo genere di musica è comunque una nicchia cioè è una nicchia si pensa che io negli anni 70 andavo a sentire solo l'apertura di Mino Reitano ai concerti dei Beatles e poi me ne andavo quando iniziavano i Beatles per dire io sono rimasto fino a New Dada poi sono andato via Al Vigorelli c'era anche tu sì ebbè certo come no ho visto Mino Reitano ai New Dada poi sono andato via cioè voglio dire basta Arceri rimane il mio idolo numero uno in Italia Maurizio Arceri Indy prima di te potrebbe essere in questo modo definita questa parte però parte gli scherzi perché un sacco di interviste mi hanno chiesto ma hai fatto un disco un po' retro no? io non lo trovo lo trovo un disco mio no ma quello che è interessante quando fanno l'intervista ai Fleet Foxes o a non perché mi voglio paraguare loro per carità non lo farei mai figurati Fleet Foxes o a Jack White non è che gli dicono ehi Jack hai fatto un disco retro anni 60 no è quello che va che voglia di fare c'è più rispetto ma no ma si discutono le cose in modo molto diverso giornalisticamente credo no? cioè non è che a Fleet Foxes gli dicono ma voi avete copiato Beach Boys David Crosby e un'altra roba avete fatto un melange e avete scritto grandi canzoni è una figata no? siete andati 5 steli su tutti i grandi magazine internazionali ma non è che dicono i Fleet Foxes è un disco totalmente e smaccatamente anni 60 retro ma perché non ma perché non serve dirlo e non è così cioè la musica si evolve sei tu che gli dai un peso come ascoltatore no? e lo dico anche per evitare che in Italia ti mettono nel cassettino no? cioè se la gente si convince che io faccio musica retro poi devo fare tre dischi di heavy metal prima di far cambiare idea ma infatti ma infatti la mia domanda proprio verteva su questo tuo mescolare mescolare le cose appunto a parte le heavy metal ma mescolare quello che ti arriva giorno dopo giorno con le cose del passato è proprio questa mescolanza da origine a questo suono e la domanda che io ti voglio porre è molto strana e sbilenca e che cos'è per te il rock and roll? noi perseguiamo uno stile british come giornalismo comunque quindi questo mi sembra in linea va bene se se la metti così ti rispondo allora ma no il rock and roll secondo me è quella cosa che che se ti tocca a un certo punto della vita poi la la studi sia da ascoltatore che da musicista no? e fondamentalmente siamo tutti ascoltatori più che musicista io sono più ascoltatore che musicista alla fine anche perché se diventi più musicista che ascoltatore secondo me da qualche parte si ferma qualcosa c'è qualcosa che non c'è qualcosa che non funziona che non mi torna almeno non so come spiegarlo perché devi essere totalmente matto e invasato per un ideale no? di qualsiasi genere leggero o importante per poi per poi crederci e dedicarci tutto il tempo della tua vita no? anche quando non puoi più tornare indietro come nel mio caso perché nessuno mi assumerebbe mai in un'azienda a fare qualsiasi lavoro se non qualche lavoro del cazzo insomma però mi ricordo da ragazzino aver visto due o tre cose alla televisione o aver sentito due o tre canzoni in radio dove mi hanno veramente fatto ribollire un po' il sangue cioè che ho detto minchia ma cos'è questa roba che mi fa che così che mi fa sentire strano no? e quella lì secondo me è il potere del rock and roll per questo che molti generi musicali nella fase iniziale contengono poi l'essenza è quella cosa veramente creativa ed energetica che poi che poi generalmente si perde nella musica no? per cui gli inizi i primi dischi di rock and roll erano delle cose che tuttora sono punk nell'anima no? da Elvis il primo periodo con la Sun o i primi dischi punk anzi c'era c'era molta più finzione nel punk del 76 che sicuramente ma per dati di fatti storici che non nelle prime band di rock and roll del 54 anche perché lì non si aveva nessuna percezione della storia del rock and roll di come viverla e di come sarebbe stata percepita dal pubblico no? mentre già nel 76 tutti avevano già capito come il carrozzone stava girando infatti i Sex Pisto sono stati giustamente venduti come la più grande truffa ma lo erano veramente e comunque hanno fatto un grande cazzo di disco e si lo sono comprati in tanti no? cioè comunque proprio oggi c'era uno speciale sui Sex Pistols su Radio 2 mi chiedevo perché ancora parliamo dei Sex Pistols alla fine invece è proprio così perché comunque avevano suono attitudine e i concerti spagavano il culo perché anche se fosse stata una vera finzione una montatura di McLaren che lo era però alla fine erano dei performer seri cioè erano completamente dentro quello che facevano non è che poi mettevi sul disco e dicevano è un po' una merda no? te lo metti su ancora adesso e dici minchia il suono esce dallo stereo è interessante erano ancora lontani i tempi del In It For The Money del tour della reunion infatti infatti i Sex Pistols sono stata la band perfetta per cui tu fai un tour della reunion lo chiami con quel nome lì è totalmente in linea con la cosa ed è l'ironia è la presa per il culo più completa tra le più complete della storia rock'n'roll benissimo questa sera ti aspettiamo benissimo niente no no molto bene faccia tutto cagare secondo me va beh ma deve essere il mood della maglia a questo punto caro Roberto noi vi aspettiamo sul palco questa sera come sul palco vi aspettate tutti sul palco poi ci scambieremo con te ringrazio anche Carlo per la bontà del buon padre di famiglia e intanto attendendo dell'era and the judas in bocca al lupo per questa and the johnsons che sono gli amici di anthony però in questo caso è difficile per questa colonna sonora originale grazie Roberto grazie per avermi invitato a parte gli scherzi va tutto male ciao Roberto il meglio c'è già stato così hanno detto Flaviano ha detto questo Flayano scusa l'ha detto lui allora noi ci fidiamo noi ci fidiamo